Aperta al pubblico fino a ottobre la mostra Arte e Resistenza, ospitata nel nuovo Centro Micheberra per l'Arte del Novecento a Costigliola e Saluzzo. Nella ricca esposizione sono presenti anche i quadri sul tema della resistenza, che fanno parte della collezione del Consiglio regionale. Si inaugura il Centro d'Arte del Novecento Micheberra, dove il tema è Arte e Resistenza. Quindi parte della collezione è stata integrata e arricchita dalla generosa collaborazione del Consiglio regionale Piemonte con dipinti importanti. Si spera che sia un momento per tenere insieme l'arte, la cultura del territorio e la buona cucina, come amava mio padre. La mostra Arte e Resistenza si avvia nel Palazzo Latour con tre sale e una delle tre sale ospita le opere della collezione del Consiglio regionale del Piemonte, che ha come tema le mostre della resistenza. Abbiamo inserito le opere di Francesco Casorati, di Mauro Chessa, di Lea Germati, di Giacomo Soffiantino e di Pinocchiezi, unitamente anche a un'opera di Piero Martina del 61. Queste opere dialogano all'interno del palazzo con i disegni di guerra e di prigionia di Luigi Carluccio e di Renzo Biasion, che si relazionano ancora poi con le opere della collezione del Centro Micheberra.